Il mio obiettivo è quello di condividere alcuni macro trend, contestualizzare il mercato degli investimenti alberghieri in Italia per poi chiudere con un flash sulle opportunità che ci possono aspettare. In particolare io sono responsabile Hotel Valuation Advisory per l'Italia, sono inserita in un più ampio team dedicato all'hospitality che sia in Italia e in Europa è comprensivo di circa 130 professionisti con focus non solo su Valuation Advisory ma Development, Operator Selection, Investment, Asset Management e Corporate Finance. In particolare volevo ripercorrere con voi alcuni temi legati all'andamento della domanda recente, all'andamento delle performance, come le performance hanno poi alimentato l'interesse degli investitori e in che cosa si è declinato questo interesse, per chiudere con un breve outlook a livello di performance e a livello di interesse degli investitori in ambito investment. Quindi diciamo, giusto per ricapitolare, sono certa molti di noi sanno quanto è rilevante l'Italia a livello europeo, 440 milioni di pernottamenti alberghieri nel 2019, siamo al terzo posto a pari merito con la Germania dopo Spagna e Francia. Nel 2022 c'è stato un fortissimo recupero che rispetto alla disruption causata dalla pandemia siamo ancora a un 10% sotto i livelli del 2019 con la componente internazionale che normalmente pesa per circa un 50%, ancora un pochettino in ritardo rispetto alla domanda domestica. Nonostante questo, le performance dei principali mercati italiani, che come sappiamo sono Roma, Milano, Venezia e Firenze, è stata eccezionale quest'anno. Ha già superato i livelli del 2019, nonostante i flussi di domanda non siano ancora tornati ai livelli del 2019. In particolare sono i mercati a maggiore esposizione internazionale, quelli che ho nominato, a guidare questa forte ripresa che è stata più fortemente determinata da un incremento di quello che viene chiamato average daily rate, che sarebbe la tariffa media giornaliera, che combinato al tasso di occupazione delle camere, dà luogo a quello che viene chiamato REFPAR, revenue per available room. Quindi se osserviamo l'andamento del REFPAR che è riassunto in questa slide, notiamo come il mercato più performante sia stato quello romano, tradizionalmente esposto per circa oltre il 70% alla domanda internazionale, che però in questo anno non si è ancora interamente ripresa. e vediamo che poi è seguito da Venezia e Firenze con Milano con un incremento un pochettino più contenuto. Effettivamente Milano ad esempio ha un'esposizione ai mercati internazionali del 60%, mentre il mercato tradizionalmente più aperto è quello di Venezia con un 90% di domanda internazionale. Le migliori performance si sono concentrate all'interno del segmento lusso e upper upscale e diciamo che anche questo performance molto forte nell'ambito dei quattro principali mercati. L'ottima performance del segmento resort che si è mostrato essere più resiliente, nel 2021, già nel 2021 aveva raggiunto i livelli del 19 e quest'anno con uno coupon pienamente allineato ai livelli del 19 ha superato in termini di Refpar di oltre il 20% i risultati pre-Covid. Quindi queste sono combinazioni anche diciamo le destinazioni e le tipologie e i segmenti su cui si focalizzano oggi gli investitori. Facciamo un passo indietro. Il mercato del real estate commerciale italiano nel 2022, nonostante il rallentamento del Q4, ha registrato il secondo miglior risultato di sempre dopo il 2019. In questo ambito gli hotel hanno cubato per circa un 14%, quindi un peso leggermente più contenuto rispetto a quello dell'anno scorso, dell'anno precedente e in particolare diciamo degli 11 miliardi e 6 di total investment nel commercial real estate, circa un miliardo e 6 sono stati investiti in hotel. Di questo volume il 70% ha riguardato operazioni value add. Le operazioni value add vedono coinvolti i panelist che seguiranno e in particolare abbiamo notato che queste operazioni si sono concentrate per il 60% nell'ambito di qualcuno di questi quattro principali mercati e per circa un 30% nel segmento resort, confermando l'interesse per questa tipologia. Quindi diciamo che a livello di tendenze attese ci aspettiamo a livello di performance un 2023 ancora sostenuto per quanto riguarda la domanda leisure e international focalizzata sul segmento lusso upper upscale e per quanto riguarda invece le performance attese sul segmento mid scale o upscale dei mercati secondari prevalentemente domestici guidati più da una domanda business, è invece possibile che ci sia una crescita molto più moderata se non magari pressoché nulla. Al netto di questo l'attività che continuiamo a vedere sia in ambito valutativo ma sotto tutti i punti di vista rimane molto vivace e focalizzata soprattutto sulle operazioni value add in questi quattro principali mercati ma anche nel segmento resort. Dobbiamo ricordare a questo proposito che il contingente camere dell'Italia che è primo in Europa per volume con oltre un milione di camere è caratterizzato dalla brand penetration più bassa se la confrontiamo nell'intorno del 20% e se la confrontiamo con la brand penetration ad esempio dei paesi che abbiamo citato prima Francia, Germania piuttosto che Spagna troviamo delle brand penetration tra i 40 e il 50%. Ci sono chiaramente delle differenze all'interno del nostro paese quindi Milano sembra essere la città dove i brand sono perlomeno ad oggi maggiormente presenti e allo stesso tempo i mercati a più elevata esposizione internazionale presentano le maggiori possibilità e prospettive per l'ingresso di nuovi brand concentrati per quanto riguarda Roma soprattutto nel segmento lusso e ultra lusso con oltre un migliaio di camere in pipeline nel medio breve termine e l'arrivo di brand normalmente presenti nelle principali capitali europee mentre la pipeline ben sostenuta per gli altri tre principali mercati è meno concentrata esclusivamente su questo segmento e più distribuita anche sui segmenti leggermente più bassi è interessante notare come anche il segmento resort offre opportunità di riposizionamento all'interno dei vari livelli qualitativi con attività di rinnovo e brandizzazione di resort mid-scale, up-scale e sviluppo e rinnovamento di resort tradizionalmente già appartenenti al segmento lusso io direi che per ora lascerei la parola a Francesco grazie, grazie perché intanto un applauso grazie molto Chiara veramente uno scenario appunto molto dettagliato, molto preciso nel quale possiamo muoverci